Non capiscono, non capiamo la tecnologia. Allora, esempio pratico, spiegami questa tecnologia. La cosa interessante di questa tecnologia è che è soltanto dagli anni 40 che abbiamo effettivamente iniziato a utilizzarla. Prima no, cioè l'essere umano per tutta la sua storia. Ho mai usato la carta igienica, andava, capito, a mano impostata, piuttosto che fogliolina. Pensiamo a tutto quello che abbiamo in casa o in ufficio e pensiamo realisticamente di doverlo descrivere a un alieno che non ha mai visto quella tecnologia. Il suo scetticismo sarà enorme. Stavo guardando le offerte di lavoro che ci sono su questo sito, trueapp.io, non ho nessun tipo di relazione con questo sito, è solo uno dei siti che ha offerte di lavoro per il mondo cripto e web3 e non solo, però io stavo guardando questa sezione e hanno 12.469 offerte di lavoro in questo momento. Guardando questo popò di offerte di lavoro, pensavo, incredibile come ogni giorno io ricevo un sacco di messaggi di persone incazzate che non c'è lavoro, non c'è lavoro, però dall'altro lato hai dei mondi dove c'è un sacco di lavoro. E con le videocall non ce la faccio più, non ce la faccio più, aiutatemi. Questa forse è l'altra cosa che mi fa imbestialire, che è pieno di zoomers professionisti. Il loro mestiere non è lavorare, è fare call. Fanno solo quello, tutto il giorno. E quando li vedi pensi, a voi, ma quando lavorate? Io vivo qua a Brighton, Inghilterra, e la percentuale di pioggia, diciamo, che è vicina, diciamo, è vicina al 99%. Ti alzi e tendenzialmente piove. Ogni volta che io mi alzo e vedo la pioggia, qual è secondo me la mia reazione? Piove anche oggi, arca miseria. Non è che sono contento, mi mette già di cattivo umore. La mia dolce metà, che è inglese, a non si accorge neanche che sta piovendo. A piove oggi? Ah, ma davvero un uragano clamoroso. E lei è normale, perché ha sempre vissuto con questo clima qua. Oppure vede il lato positivo. Ah, fantastico, serviva proprio una bella pioggerellina, così le piante in giardino. Vede un altro aspetto positivo, che io non riesco a vedere. Se tu ti concentri su tutti gli aspetti negativi che trovi, ogni giorno ne trovi miliardi. In continuazione non c'è mai fine. I'm sure, if you don't play when it rains in England, you're not going to play much, right? But if I go to your point, yeah, the thing is, it's surprising. In some countries, people are completely okay to play outside in the middle of the winter. And actually, I'm originally from Paris, and I think that Paris weather is quite close to British weather. And I never had indoors. I always, I mean, when I was a child until maybe 20 years old, I was playing full winter outdoors. And it was cold, but it's okay. Once you start to run, you get used to it. And the rain, you have to learn to be light on your feet. So you're getting paid $100 million a year just to manage the money. And so you go and you buy bonds that yield 2.5% interest, and then the money loses 15% of its value a year. So the real yield is minus 12.5%, and you're literally destroying a billion dollars a year. But it's not your money, is it? You're destroying a billion dollars of value of some other investor's money. And so your choice is give all the money back to the investors, and you're going to lose a billion or 2 billion. Or keep investing it pursuant to your mandates that were set in the year 2007.